Aggressività e problemi psicosomatici sono i disturbi più diffusi tra i giovani in questo periodo segnato dal coronavirus. Infatti con il lockdown e le fasi successive legate alla pandemia, la famiglia ha rivestito tre ruoli. È stato al tempo stesso il luogo di lavoro, di studio, ma anche di isolamento e le conseguenze che oggi si registrano, dati alla mano, sono allarmanti. Durante la prima ondata, quella del lockdown da marzo a giugno del 2020, il periodo in cui c'è stata una chiusura totale di tutta la popolazione, quindi anche per i ragazzi, bambini, adolescenti, uno stop completo di quella che era la didattica in presenza, si sono visti l'aumento di tutta una serie di sintomatologie. Da uno studio condotto su 2000 pediatri, il 98% dei pediatri ha notato una sintomatologia presente nei bambini e nell'80% dei pediatri hanno trovato una sintomatologia invece in adolescenti e preadolescenti. Nello specifico, nei bambini, sono emerse tutta una serie di comportamenti problematici, bambini molto più impauriti, appiccicosi, bisogno di co-sleeping, quindi risvegli notturni, disturbo del sonno, ricerca di attenzioni, urla, scoppi di rabbia, aggressività. Negli adolescenti e preadolescenti, allo stesso modo, ci sono stati comportamenti magari più violenti, più aggressivi, ma anche al tempo stesso tutta una serie di somatizzazioni, quindi mal di test e mal di pancia psicosomatici, così come anche una diminuzione della motivazione allo studio, anche in studenti ed alunni che erano comunque motivati, anche bravi a scuola. Questo nella prima ondata. Nella seconda ondata, per i bambini, il ritorno a scuola sicuramente è stato un motivo di motivazione maggiore allo studio, mentre purtroppo negli adolescenti, quindi delle scuole superiori, la didattica a distanza non ha aiutato nel migliorare questa sintomatologia e spesso quindi ci sono stati comportamenti proprio di perdita di motivazione, crisi di pianto, anche a volte sintomi ansiosi, tutta una serie di problematiche che si sono poi slatentizzate dal fatto che nella prima ondata già si era stati abbastanza provati. Per contrastare il disagio, anche nelle Marche è arrivato il sostegno psicologico nelle scuole. L'ordine, preseduto da Katia Marilungo, ha lavorato in sinergia con l'ufficio scolastico regionale per inserire un professionista all'interno di ogni plesso, di ogni ordine e grado. Un intervento fondamentale per supportare bambini e ragazzi, insegnanti e famiglie nella ripresa dell'attività. Sono stati stanziati dei fondi per tutti gli istituti scolastici nazionali e quindi sono stati erogati dei fondi e fatti dei bandi affinché ogni istituto scolastico avesse al suo interno uno psicologo. In tutta Italia, quindi, anche la nostra regione ha risposto molto a questa erogazione di fondi. Qual è il consiglio che l'ordine si sente di dare, in particolare alle famiglie che stanno fronteggiando questi problemi in casa? Come ordine psicologi, noi sicuramente sappiamo che tantissimi colleghi altamente formati e specializzati sono al lavoro all'interno degli istituti. Quindi il consiglio che do è quello di chiedere aiuto agli psicologi che sono già al lavoro all'interno degli istituti scolastici, anche solo in maniera preventiva.